Riscoprire una coscienza ambientale ragionando sulla natura oltre che sull'uomo, partendo però da quella che si chiama etica ambientale per produrre idee e proposte per nuove politiche, economia e giurisprudenza. Di questi e di diversi altri temi si è parlato nella due giorni dedicata alla 17esima scuola di filosofia organizzata dal liceo scientifico Riccardo Nuzzi di Andria in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Nella due giorni, conclusasi nel pomeriggio di mercoledì, protagonista è stato il professor Pier Giacomo Pagano, biologo e ricercatore dell'Enea e massimo esponente italiano della filosofia ambientale. Io comunque considero la filosofia ambientale una sorta di contenitore o un processo che raccoglie tutte le idee di diversi campi di studio dell'uomo, quindi parlo di scienze naturali, scienze sociali, filosofia, anche religioni, tradizioni, insomma tutto quello che è il pensiero umano. Le elabora in un motore che si chiama etica ambientale per, come scopo finale, produrre delle idee, produrre delle proposte a chi ha i fruitori finali che sarebbero la politica ambientale, economia ambientale e giurisprudenza ambientale. Ecco, questo contenitore serve appunto per integrare le diverse conoscenze umane per le risposte, perché non è, diciamo, non può essere soltanto l'ingegnere che dà delle risposte, per esempio a un'esondazione di un fiume, ma devono essere appunto una serie di discipline che si integrano. Ecco, in un territorio in realtà come l'Italia che avrebbe e ha tanto bisogno di questo, in realtà, di recuperare proprio il rapporto tra uomo e natura. Certo, e quello che volevo dire è una cosa essenziale della filosofia ambientale e in particolare dell'etica ambientale, che non esiste solo un modo per rapportarsi con la natura, in quanto tutti dicono perché dobbiamo salvaguardare la natura? La dobbiamo salvaguardare perché è la nostra casa, ma il ragionamento è di tipo antropocentrico, vuol dire noi lo salviamo perché è casa nostra. Se non ci fossimo noi cosa dovremmo fare? Potremmo anche degradarla? No, alcuni pensatori pensano che sia importante per se stessa, quindi salvaguardare la natura non tanto per noi e le nostre generazioni, ma anche per la natura stessa. Scuola di filosofia del Nuzzi, che ha da sempre visto protagonista il professor Michele Palumbo, docente di filosofia nonché giornalista, prematuramente scomparso a marzo scorso. Dalla sua idea all'avvio di questa scuola che per 16 anni ha regolarmente organizzato, il liceo andriese tuttavia non ha voluto far mancare anche quest'anno, anche in suo onore, l'appuntamento grazie al Dipartimento di Filosofia del Nuzzi. Noi vogliamo continuare l'opera iniziata e voluta dal professor Palumbo, che ha coordinato per tanti anni, questa è la 17esima edizione, lui fino all'edizione precedente c'era, l'ha organizzata insieme con noi la scuola di filosofia, che è svolta dal liceo scientifico in collaborazione con l'Istituto di Studi Filosofici di Napoli.